Metti subito dentro la marcia e vieni subito qua, vieni indietro. Se no, se stai troppo lontano e non c'è due debiti, mettere un po' più qua. Vieni, vieni, ponmi indietro. C'è tempo di arrivare qui, è vero? Perché loro non devono arrivare proprio, non devono arrivare addosso alla porta, loro devono arrivare in mezzo, dopo la colonna, dopo la colonna, al centro. Da quei quadri magari. Devo arrivare qui al secondo quadro, capito? Al secondo quadro dobbiamo fare la spara del fuoco? Al secondo quadro? Voi potete buttare giù quando ho sentito. Lele che dice a terra. Monofri a terra. Non c'è colpo d'arrivo adesso, quindi quando lui spara, tu vai giù per terra. A lui che spara? Io? Io? Lui. Lui di Donaci. Ehm, non lo sai. La verità qual è? E' che Gennaro, nel fiction, farà il cameriere. No, il Bidelli. Il Bidelli. Da qui parte lo spin-off della Roma Scuola. Si. Che va a prendere persone alla scuola e diventa Bidelli. La fiction sarà come a Bidelli. No, no, no.